un giorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete la grinta non vi mancherà affronterete tutto con decisione e con fermezza toro fate pulizia tra l'amicizia dei social network non tutte sono sincere gemelli se le cose da fare vi sembrano troppe cercate di selezionare quelle che per voi sono più importanti cancro tenteranno di farvi ingelosire in tutti i modi possibili e immaginabili opponete un atteggiamento sobrio e composto leone fate uno sforzo per portare a termine qualcosa che avete iniziato da poco bergine datevi del tempo per riflettere e meditare dedicate più tempo alle cose reali bilancia ascoltate il vostro cuore e capirete che non potete andare avanti voltate pagina scorpione siate più attenti in generale alle cose che vi circondano sagittario se avete dubbi sul vostro partner è giunta l'ora di scioglierli e in modo definitivo capricorno non comprare cose inutili e controlla bene ciò che acquisti acquario non fidarti di chi ti farà grandi promesse dovete essere più realisti e concreti pesci se vi sentite in difficoltà è il momento di aprire il cuore alla speranza questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo